Rivediamo rapidamente il prologo dell'Edipo Re nella parte che abbiamo già tradotto. Noi vediamo innanzitutto un inizio in Medias Res, l'abbiamo già detto, con Edipo, primo personaggio sulla scena, a prendere la parola. La situazione è quella di una città in crisi e di una popolazione che, suppliche, si reca davanti al palazzo del proprio sovrano. Edipo si rivolge loro in maniera sollecita, successivamente si farà riferimento alla sua protiumia, al suo zelo nei confronti della cittadinanza, che lui già ha dimostrato in una situazione precedente, cioè quando la città era afflitta dalla sfinge e lui non era comunque ancora re. La reggenza della città, quindi il ruolo di sovrano, gli viene attribuito proprio in virtù di questa azione che lui compie nei confronti della cittadinanza, liberandola da quel tributo di sangue. Edipo si rivolge ai suoi concittadini chiamandoli figli, o tecna è proprio la parola iniziale di questa tragedia. Noi vediamo quindi un personaggio all'apice del suo successo, quindi all'acme, ed è proprio questa metabolè che interviene nel corso dell'azione a rendere questa tragedia, per come la definisce Aristotele, la tragedia più riuscita del patrimonio tragico greco. E questo perché, secondo Aristotele, per l'appunto, la metabolè avviene, è estendustochian, nella disgrazia più assoluta da parte di un uomo che fino a quel momento era enmegaledoxe e caieutuchia, in una situazione di grande fame e grande fortuna. Questo è un fatto davvero pauroso e compassionevole. I spettatori si immedesimano nella figura di Edipo e quindi provano una sorta di scoramento determinato dalla non colpevolezza cosciente di questo personaggio. Allora, torniamo al testo. Quindi, Edipo si rivolge ai suoi concittadini chiamandoli figli, Quindi figli, Neatrofe, novella stirpe, tu cadmo, palai, di cadmo antico. Tinas, Edras, Pote. Quali posizioni mai sono, sottointeso, Tasde e Toazete, quelle che sedete, moi, per me. Poi, subito dopo, un riferimento alla situazione della città. Uso sempre il verde per indicare alcuni termini necessari e connotare la condizione della città. Poi vedremo la metafora della nave in balia delle onde insanguinate. Polis, la città. Gemei è piena. Omu, contemporaneamente. Tiumiama, sarebbero gli incensi. Gli incensi. Omu, contemporaneamente. Paianon, di Peana, Tecaistenekmaton, e di Lamenti. Ago, di Cajon. Ago è una crasi a ed ego, ed io, di Cajon, ritenendo giusto, ho figli, nuovamente Tecna, a cui in ascoltare a le quali cose, quindi quella Ago conteneva un pronome relativo, come nesso relativo, quindi è ritenendo opportuno ascoltare queste cose, cioè il motivo per cui la città è piena di Peana, incensi e lamenti. Me, parangelon, non da parte di messaggeri, allon, altri. Autos, io stesso, io in persona. Io, oidipus, edipo, calumenos, chiamato, cleinos, famoso, pasi da tutti, ritenuto famoso da tutti. Qui il cleinos, calumenos, diciamo, è una figura etimologica, perché la radice del verbo, caleo, corrisponde a quella dell'aggettivo cleinos, però in una forma apofonica di grado zero. Leggo metricamente dal verso 4 fino a calumenos. Quindi, polis domu mentiumi amaton gemei, omude paianon tecaisten agmaton, ago dicaion me parangelon tecna, allon queinau toso teleliutà, opasi cleinosoi dipus calumenos. Continuo con la lettura fino alla fine della pagina. Allogherai e fraze, pei, prepone, fius, proton, defo, neintini, troppo, catesta, te. Qui abbiamo una sostituzione. In terza sede abbiamo un dattilo giambico. Quindi, proton e giambo, defo e giambo, neintini, e invece è un dattilo giambico. Poi si procede normalmente con tre giambi, troppo, catesta, te. Dei sante, se, sterc, sante, sos, telon, to, san, e mu, prosar, ke, impan, du, sal, getos, garan, e iento, ian, de me, de mu, perché qui c'è una lesione, katoik, tiron, ed ram. Quindi, dobbiamo ilidere, l'eta della negazione, considerare, diciamo, metricamente, soltanto la negazione u. Allora, continuo a tradurre alla ma, o gheraie, o vecchio, o anziano, si rivolge al sacerdote, che è il portavoce del gruppo dei sudditi, fraze, dimmi, epei, poiché, efius, sei per natura, prepon, adatto, foneina, parlare, protonde, per questi, per conto di questi. Tieni troppo, con quale atteggiamento, catestate, siete qui, fermi, daesantes, esterexantes, temendo, o desiderando, os, poiché, telontos, emu, io voglio, quindi, è un giocitivo assoluto, ma l'altro ho detto, in maniera esplicita, poiché io voglio, prosarchein, essere utile in tutto. Quindi, te lo chiedo, perché, ho questa pretesa, di aiutarvi, in tutto quello che posso. Dusalgetos, garan, eien, sarei infatti, privo di compassione, quindi insensibile, dius, nega algos, quindi, incapace di provare compassione, di provare sentimenti, di dolore, incapace di empatizzare, potremmo tradurre anche, u catoictiron, nel caso in cui non provassi compassione, toiande edran, per questa vostra posizione, ma anche condizione, potremmo tradurre. vediamo le parole del sacerdote, a partire dal verso 14. Il sacerdote si rivolge ad Edipo, presentando il gruppo dei supplici, quindi, classificando i presenti, davanti al re. In questo caso, si rivolge ad Edipo, definendolo, Cratiunon, colui che comanda, sulla sua terra, e questo, diciamo, è uno di quei termini riferiti al lessico del potere che dobbiamo analizzare. In giallo, invece, indico la classificazione dei supplici, fatta per bocca del sacerdote, che è supplici anch'esso. Allocratiunonoi, dipuscorasemes, orasmenemase, licoiprosemetà, bomoi sitois, soisoi, menude pomegran, ptestai, stenonte soi, desiungherabareis, iereus ego, menzeno soi, deteteon, lektoi, todallo fiulone, xestemmenon. Agorai, qui c'è un, una pesto in prima sede, sita che i pros, te pallados, di plois, naoi, se pismenù, temante jaspo do. Ma, o kratiunon, oidipus, oidipo, kratiunon, che comandi, participio congiunto in questo caso, coras emes, questa mia terra, oras vedi, è qui il verbo vedere da attenzionare, perché chiaramente tutto il lessico della vista è fondamentale in un testo come questo, che porta poi all'accecamento del protagonista. Quindi, vedi, con i tuoi occhi, potremmo dire, emas noi, elicoi, di quale età, prosemeta, sediamo, bomoisi, tos sovis, presso i tuoi altari. Oimen, alcuni, udepo non ancora, stenontes in grado, essendo capaci, sarebbe letteralmente, testai di volare, macran, per lungo tratto. Oide, altri, bareis, appesantiti, siunghera, a causa della vecchiaia, Iereus, sacerdote, egoio, menzanos di Zeus, quindi lui sta tra gli anziani, Oide, questi, lectoi scelti, eteon, tra i giovani. todallofiudon, il resto della popolazione, ex estemenon, incoronato, quindi sempre con rami supplici, takei, giace, agoraisi, nelle piazze, pros, vicino, ai diplois, naois, ai tempi doppi, pallados di pallade, il te e un cai, e, presso, e pi, spodò, la cenere, manteglia profetica, dell'ismeno, ismeno sarebbe appunto l'apollo inceneritore che era venerato nella città di Tebbe. Subito dopo la presentazione, il sacerdote insiste sulla difficile situazione in cui versa la città. Polis gar, osper, cautos, eisoras, agan, ede, salewei. La città infatti, osper come, cautos, anche tu, in persona, eisoras, puoi vedere, con i tuoi occhi, aggiungo io, agano troppo, ed è già salewei, ondeggia. Il kanakufisai, è l'esito di una crasi, cai, uk oia, del verso successivo, sottintende esti, non è in grado, il soggetto è sempre la città, anakufisai, di sollevare, cara, il capo, buton, tra le onde. Te e un cai, te, foiniu, salu, e dal flutto, dal colore del sangue, foiniu, e rosso, porpora. Ftinusa, è un participio congiunto, con polis, in anafora, nei versi, 26-27, scusate, e, ftinus adeperendo, caliuxi nencarpois, nei calici fruttiferi, tonos, della terra, ftinus adeperendo, agelais bunomois, nelle mandrie, di buoi, te, è sempre un cai, e, tokoisi agonois, nei figli non nati, delle donne, quindi, negli aborti, delle donne. Per cui, la città, adeperisce, in ogni elemento, di procreazione, quindi, sia a livello, di fecondità, dei campi, sia a livello, degli animali, sia a livello, proprio, degli uomini. Opirforos Theos, il dio portatore di febbre, en skepsas, essendosi scagliato, e launei, flagella, polin, la città. Loimos, ectistos, è una posizione, di purforos Theos, peste, loimos, ectistos, orribile, in superlatico, dectros, iufu, dalla quale, per nome relativo, u, cadmeion, doma, la casa di Cadmo, che nutai, è svuotata, de, invece, melas ades, il nero ade, plutizzetai, si farricco, stenagmois, caigois, di, pianti, e di lamenti. E qui, chiaramente, sottolineo il chiasmo. In verde, invece, avevo sottolineato il lessico relativo alla condizione della città e la metafora della nave e l'anafora in relazione alla sterilità dei campi e alla moria delle mandrie, a cui si unisce anche la sterilità delle donne. al verso 31 inizia la captatio benevolentie. Il sacerdote si rivolge ad Edipo dicendo che lui e gli altri fanciulli che sono lì seduti supplici lo giudicano non pari ad un dio ma primo tra gli uomini perché lui precedentemente aveva liberato la città di Cadmo dal tributo che loro dovevano alla Sfinge qui nel testo definita come dura cantatrice e lo aveva fatto senza aver saputo nulla da parte dei cittadini e senza essere stato istruito in merito ma probabilmente con l'aiuto di un dio aveva raddrizzato la città. I versi li leggo te oi si meniunuc isumenos segò ud oi de pai de se zomeste festi oi andronde protonen tesiun forais biù crinont tesente dai monon siun allagais osgele liusas astiucad meion molon scederassa oi dudas monoi parei comen caitau diufè monu denè seidos pleon udek didacte isalla proste che teu legheno mizze te minorto sai bion ego quindi io isumenos se giudicando te uguale uc non teoisi agli dei udè ne oide paides questi ragazzi e zomesta e festi vi sediamo supplici crinontes giudicandoti de piuttosto proton il primo andron tra gli uomini ensiun forais nelle disgrazie biu della vita te en e siun allagais ensiun allagais en i legami dai monon con gli dei os tu che ex eliusas da ecliuo hai liberato astiucad meion la città di cadmo molon una volta aggiuntovi das mon del tributo scleras a oidu della dura incantatrice on che pareicomen pagavamo cai tauta è questo sottinteso lo hai fatto exeidos uden avendo saputo nulla quindi non sapendo nulla pleon di più iufemon da parte nostra udedi dacteis ne essendo stato istruito alla ma leghe cai nomize quel te è un cai un te diciamo copulativo si dice e si pensa ortosei che tu abbia salvato bion la vita emin a noi subito dopo la richiesta di aiuto leggo metricamente nion to gratis ton pa si noi di pucara qui c'è un anapesto in prima sede i cheteu omen se pan te so i de prostro poi al ken tineu renei al ken tineu rene minei te tu te on femen accusa sei apan drosoi statu nion adesso o gratis ton cara o potentissima testa o i dipu di edipo potentissima per tutti quindi gratis ton superlativo radice crat indica la potenza e vedremo poi ci sono tanti termini relativi al comando in questa parte del testo i cheteu omen se preghiamo te pantes tutti oide questi prostro poi supplici e urein di trovare al kentina un rimedio emin per noi eite accusas sia che tu lo senta avendolo sentito avendolo saputo avendo sentito scusate femen parola teon degli dei la parola degli dei femen da femi è la radice del verbo dire feme è il sostantivo eite sia oista che tu lo sappia apan dros tu quel tu è un tinos quindi da un uomo da parte di un uomo os poiché oro vedo che tas xion foras boleum adon quindi gli esiti ton boleum adon delle decisioni toisin empeiroisi per quegli esperti zosas vivono nel senso che sono favorevoli malista moltissimo quindi il sacerdote dice chiede ad Edipo appunto di trovare un rimedio lui che già ha salvato la città perché a questo punto è esperto nel senso che sa come ci si comporta in queste situazioni chi è esperto ha più possibilità che le proprie decisioni vadano a buon fine qui iniziano una serie di esortazioni vediamo l'anafora dell'iti che è un subì e orsù quindi incoraggia Edipo gli imperativi sono poi Anortoson Eulabeteti e Anortoson ancora ripetuto più in basso li ho segnati in rosso per che fossero evidenti Brotonarist è riferito invece a Edipo è lessico in viola come nelle pagine nelle schermate precedenti quindi orsù o Brotonarist o migliore dei mortali Anortoson raddrizza poli nella città orsù eulabeteti bada bene quindi pensa bene datti da fare per bene os poiché edeghe questa terra nion adesso clezai chiama se al verso precedente te sotera predicativo dell'oggetto salvatore tes parus protiumias per la tua precedente diligenza per il tuo zelo precedente qui abbiamo un memnometa congiuntivo che potrebbe essere un congiuntivo esortativo quindi esortazione negativo o possiamo considerarlo piuttosto una completiva che dipende a livello logico da quel eulabeteti che abbiamo visto prima come se fosse bada bene che medamos memnometa non dobbiamo mai ricordarci archestes del tuo potere della tua carica stantes essendoci messi esorton dritti nella giusta posizione in una posizione retta cai pesontes ed essendo caduti e justeron poi di nuovo all'amma a nord son raddrizza ten polin ten de polin scusate questa città asfaleia in maniera salda in azzurro chiaro ho messo i termini che hanno a che fare con i concetti positivi quindi zosas al verso 45 esorton asfaleia in questo caso al dativo asfaleia e poi nel verso successivo il tiuken è anche in verde chiaro quindi gar infatti cai anche paresca e sai offerto e min a noi tentiuken una sorte orniti una sorte favorevole quindi una buona fortuna orniti a isio con un auspicio favorevole allora tote cai e tanyun anche adesso isos genu si uguale legometricamente perché avevo tralasciato la lettura dal verso 44 in poi osto isi nempe i roi si cai tas iun for as zo sasso romalista ton buleum ton ito protonarista norto son polin ite ulebbe tetos segniun menè dege sotera che lezze i tess paros protium iass arces detess se smed amos memnometà stantez tesort ton cai pesonte si usteron allas faleia ten da norto son polin orniti garca iten totai si o tiuken parez che se min cai tanyun isos genu osei per arc sei stes degess os per crates ormai concludo con questi due versi osute nest inu te piurgo su te naus ere mos andron me x u noi cunt ton eso traduco dal verso 54 os poiché ei per arc se governi se regni tes degess su questa terra os per crates come regni di fatto cioè come è in tuo potere calion esti sottinteso e sarebbe meglio sarebbe preferibile sarebbe più bello cratein governare xun andrasin con uomini e piuttosto che un guest sottinteso al genitivo su una terra che n'esse vacante vuota os c'è un accumulo di causali in questa parte del testo poiché udenestin non vale nulla utepiurgos né una torre utenaus né una nave eremos priva andron di uomini che non ci abitino dentro quindi qualcuno legge andron mesi un acunto in realtà come un genitivo assoluto quindi in quel caso la traduzione sarebbe poiché non vale nulla né una torre né una nave vuota andron me si uno incunto non essendoci uomini che vivono all'interno comprendendo anche l'avverbio eso